Camminando, ricammino avanti e torno avanti, adesso come camminate gli uomini, spingo, tiro, spingo, tiro, vedete, avanzo col sinistro e indietreggio un pochissimo col destro, vedete, riportate che fate camminare l'uomo perché la fate portare sul piede, avanti, in modo di riportare sul piede, avanti, in modo di riportare sul piede, molto importante. Grazie a tutti. Ok? O un doppio incrocio. Ok? O un voleo e un doppio incrocio. Ok? Dopo incrocio e voleo. Lei fa. Taccatacca, tam, tam. E io vado a tempo. Ti dici, metto anch'io un doppio passo. Ok? La forma non è grande. Ok? Posta, abbiamo fatto. Posta, abbiamo fatto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti